Partono oggi 200 giorni di lezioni per circa 200.000 studenti sardi distribuiti tra le scuole materna, elementari, medie e superiori. L'ex ministro dell'istruzione, Marco Bussetti, con il decreto ministeriale 688 del 31 luglio scorso, poco prima della crisi di governo, aveva avviato le assunzioni a tempo indeterminato dei docenti per l'anno scolastico 2019-2020, per un totale di 53.627 docenti che saranno stabilizzati tramite l'emissione in ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado. Tra le nuove figure che saliranno definitivamente in cattedra sono 1.828 quelle che avranno un posto in Sardegna, 41 sono destinate alla città di Sassari, ma a far la parte del Leone con 14 insegnanti che passeranno di ruolo sarà l'istituto complensivo di Lippunti San Giovanni, 12 quelli per la scuola secondaria di primo grado del Sacro Cuore e infine 9 per la scuola elementare di San Donato e altrettante per quella di Via Ogliastra. In tutti gli istituti menzionati è prevista la figura di un insegnante di sostegno a tempo determinato. Nel calendario approvato per la Regione Sardegna per l'anno scolastico in corso, il termine della lezione è previsto per il 6 giugno del 2020, per la scuola primaria e per la secondaria di primo e secondo grado, il 30 giugno per la scuola dell'infanzia. In totale da settembre a giugno i giorni a disposizione saranno 203, di cui 2 a descrizione di ogni istituto. Quindi in totale si avranno 200 e un giorno di lezione.